Continua la delusione di una parte di telespettatori per la trasformazione di Sergio Dottavi, che avrebbe abbandonato Idetodo, fandom per Beatrice Luzzi, Stefano Miele il primo, che avrebbe dimenticato gli amici del Grande Fratello 2023, per Greta Rossetti Colpo di scena, anche suo padre pare furioso con lui.Non solo non risponderebbe al telefono a Stefano Miele, per stessa ammissione dello stilista, da quando è fuori dal Grande Fratello 2023 Sergio Dottavi sembra letteralmente un'altra persona, anche sul front estetico e per i fan l'avrebbe fatto per compiacere Greta Rossetti La scuriata sciocca a sorpresa del padre.Il papà di Sergio Dottavi rompe il silenzio sulla storia del figlio con Greta Rossetti Sembra che Sergio Dottavi dopo il Grande Fratello 2023 abbia addirittura lasciato il lavoro. L'ha rivelato suo padre che non l'avrebbe più visto presentarsi al Circeo. L'ex concorrente dello spiato appartamento di Cinecittà sarebbe sempre a Milano con la fidanzata Saverio Dottavi è sempre stato molto attivo, sui social, durante il programma Adesso ha deciso di rompere un silenzio che durava da giorni su suo figlio L'unico che ha ragione è Stefano Miele, che rivedrò presto. Resto un fan di Beatrice Luzzi e io non sono nel pislo di nessuno per poter capire che cosa accade agli altri uomini, figlio e altri concorrenti maschi compresi, l'uscita che nessuno si sarebbe potuto aspettare da parte dell'uomo se non magari in privato Evidentemente intendeva smuovere il figlio con questo gesto discutibile e i fan del GF sono rimasti sotto shock da un lato, soprattutto i sergetti, e dall'altro si sono detti soddisfatti Il 32enne deciderà di parlare?